La Lituania ha annunciato di voler allentare le restrizioni al transito di merci russe verso Kaliningrad. Stretta tra le sanzioni poste dalla Commissione europea e gli accordi precedenti con Mosca, Vilnius rivedrà dunque il divieto al passaggio, ma dice il governo, solo dopo l'adozione di nuove regole di controllo. L'opposizione lituana vede questa mossa come una concessione inaccettabile alla Russia. L'essenza della questione è molto semplice. Siamo uno Stato, siamo un territorio lungo la strada di cui di fatto rappresentiamo solo una stazione. Ecco come dovrebbe essere formulata la questione. La nostra forza è l'unità. La Russia ovviamente ha l'obiettivo di dividere la comunità democratica e noi non la aiuteremo di certo a raggiungere questo obiettivo. Abbiamo i nostri alleati sia nella Nato che nell'Unione europea. Dobbiamo ascoltare la loro opinione. La Lituania voleva, aveva obiettivi leggermente diversi. Quello che abbiamo adesso è un compromesso. A giugno la Lituania ha imposto restrizioni al transito via terra di merci dalla Russia a Kaliningrad, citando le nuove sanzioni contro Mosca. Questa settimana la Commissione europea ha chiarito che il trasporto di alcune categorie di merci è vietato solo su strada. La Russia lo ha comunque definito un tentativo di blocco e ha minacciato una dura risposta.